Ciao a tutti, mi chiamo Alessio Barbonagli e sono coach in opzioni e in commodity spread. Questa sera sono qui per commentarvi una strategia che è stata inserita nel trading report di lunedì, in particolare uno spread sul GF, ovvero i bovini giovani. Ma prima di esaminare lo spread vorrei giusto spendere due parole sul mercato dei bovini, nel senso che i bovini giovani vengono allevati per un periodo che va dai 4 ai 6 mesi prima di diventare dei bovini adulti, ovvero i life cattle. Durante l'allevamento la dieta è a base di cereali ma soprattutto a base di mais. Mais che sappiamo ha delle aspettative fondamentali ribassiste, perché gli stoccagi sono elevati, le rese sono a livelli record, ma soprattutto con un prezzo del petrolio abbastanza basso, tutto il mondo dei biocarburanti, in particolare il bioetanolo, risulta essere meno competitivo. Il bioetanolo viene prodotto con il mais ed ecco che la domanda di mais è in continua discesa e questo va a deprimere le quotazioni. E' quindi evidente che con un prezzo del mais abbastanza basso, risulta conveniente per gli allevatori allevare i bovini giovani al fine di farli diventare adulti. Questo spread multileg mette in relazione i bovini giovani, i bovini adulti e il prezzo del mais. Da un punto di vista economico possiamo dire che rappresenta il margine di allevamento. Come possiamo vedere dalla linea che sto tracciando, non siamo su margini di allevamento record, ma siamo senz'altro sulla fascia elevata. Quindi questo vuol dire che è conveniente allevare i bovini giovani per farli diventare adulti e questo ci porta a pensare che prima o poi questo margine economico verrà riconosciuto dal mercato e prima o poi andrà a restringersi per ritornare su un valore medio. Quindi possiamo presumere che da qui ai prossimi mesi il GF potrebbe fare meglio dei live cattle e quindi abbiamo aspettative sicuramente buone sul GF o comunque ci aspettiamo un mercato abbastanza tonico. Ora passiamo ad esaminare lo spread che ho proposto. In particolare si tratta di uno spread in ottica long tra ottobre del 2020 e novembre del 2020. Quindi la mia proposta è quella di acquistare il feeder cattle con scadenza in ottobre andandoci a coprire con la scadenza di novembre del 2020. Ora su entrambe le gambe diciamo che i volumi non sono ancora eccezionali ma possiamo assolutamente già da questo periodo considerare questo spread. Diciamo che non c'è un vero e proprio segnale di analisi tecnica ma abbiamo l'RSI direi abbastanza basso ma soprattutto ricordo tutti che su Alfa 4 charts le medie sono in scala e come possiamo vedere i prezzi in questo periodo sono molto bassi sia rispetto alla media dei 5 anni rappresentata in giallo sia alla media degli ultimi 15 anni rappresentata con il colore più scuro. Inoltre soprattutto se consideriamo gli ultimi 5 anni nella parte finale di vita di questo spread quindi diciamo da agosto in avanti abbiamo una stagionalità molto più orientata al rialzo che quindi ci fa ben sperare per il buon proseguo di questo spread. Ora sempre su Alfa 4 charts consideriamo il price continuous di questo spread come possiamo vedere siamo sicuramente nella fascia bassa di prezzi di questo spread ma quello che vorrei fare notare a tutti è che i meno 2 qui stiamo considerando gli ultimi 20 anni i meno 2 sono molto rispettati infatti se escludiamo queste escursioni che però è successa diciamo nell'ultima parte di vita residuo di questo spread i meno 2 è un livello molto sentito dal mercato e molto ben rispettato anche nel passato anche nel passato meno recente quindi diciamo che dai livelli attuali siamo circa meno 1 siamo a un punto di distanza dei minimi assoluti. Vediamo che nella parte alta è uno spread che può arrivare anche a 4 o 5 soprattutto nella parte finale e questo è sicuramente un lato positivo di questo spread che va ad aggiungersi ripeto al rispetto dei meno 2 che abbiamo in termini di prezzi. Ultima considerazione andiamo a vedere lo staked degli ultimi 5 anni sempre di questo spread come possiamo vedere anche qui stesse indicazioni nel senso che ci troviamo su valori veramente bassi molto vicini ai meno 2 che abbiamo considerato prima ma vorrei porre anche l'attenzione al fatto che è uno spread che se tralasciamo veramente gli ultimi giorni che sono poco rappresentativi perché ci possono essere scatti rialzisti ma anche ribassisti molto importanti è comunque uno spread che prima di portarsi a scadenza è uno spread che quasi sempre va sopra lo zero e tenuto conto della stagionalità e dei prezzi bassi è un ulteriore elemento positivo per questo spread. Bene, per questa sera è tutto io vi ringrazio dell'attenzione ricordo a tutti che è possibile prenotare una sessione individuale registrata con me per prenotarla è semplicissimo basta cliccare sul link in descrizione ringrazio tutti per l'attenzione lì nella regia ciao a tutti e alla prossima ciao